Con la chiusura dell'anno scolastico sono tanti gli istituti che organizzano delle feste di fine anno, così come è accaduto per le tre quinte classi della primaria San Giovanni Bosco di Via Grande. I circa 60 alunni, vestiti con costumi ed epoca, hanno concluse il progetto di laboratorio teatrale. Il titolo del musical messo in scena Sicilia è un'isola a tre punte, che si è sviluppato attorno alle tradizioni della nostra terra, della vita dei contadini e di alcune leggende, tra cui Ace e Galatea, la principessa Sicilia, con la pesce. Lo spettacolo è durato oltre 90 minuti ed è stato presentato da Paolo Filippini e Daniela Fichera.